Controlliamo quella zona. Cosa credete ci sia? Cosa credete ci sia qui? Non mi chiamano Lifeline solo perché salvo una vita. Ascoltate, sono sotto tiro. La mappa mostra che siamo riconosco a rovesci a nello. Sto ricaricando gli scudi. Cuoco! Un nemico abbattuto. Mi hanno individuato. Mi stanno sparando. Un altro nemico KO. Contatto con il nemico. Prima vittima. La battaglia arriva d'improvviso. Fatevi trovare pronti. Nemico fuori gioco. Ho eliminato tutta la squadra. Bel lavoro. Nuovo leader uccisioni. Sono il leader uccisioni. Non si scherza con me. Il negozio è aperto. Ricarico. Sto ricaricando gli scudi. Drone di guarigione, se ne hai bisogno. Ricarico. Sto ricaricando. Sto ricaricando. Qui c'è un kit medico. Rifornimenti extra da questa parte. Ascoltate, siamo un po' sparpagliati. Guardate le mappe. Più veloce, più veloce, più veloce! Mi stanno sparando. Ascoltate, sta arrivando un'altra squadra. Sto ricaricando gli scudi. Obiettivo abbassuto. Atto in fuori. Ascoltate, sono sotto tiro. I nemici a terra. Un attimo, devo curarmi. Sto ricaricando gli scudi. Attenzione, anello in movimento. Guardate le mappe. Siamo fuori dall'anello. Ascoltate, sono sotto tiro. Capsula assistenza in arrivo. Capsula assistenza in arrivo. Musica per le mie orecchie. Ascoltate, sono sotto tiro. Nemico fuori gioco. Sono un graffio. Un secondo. Un attimo. Sto ricaricando. Sto ricaricando. Replicatore in arrivo. Ci sta mettendo troppo. Rimane metà delle squadre. Sto ricaricando. Sto ricaricando. E' possibile. La rispettano. È divertente! Qui c'è un'otturatura per shotgun, livello 3! Ecco il tuo regalo di compleanno! Non mi chiamano Lifeline solo perché salvo una vita! Ascoltate, siamo un po' sfarpagliati! Guardate le mappe! Mi hanno individuato! Mi sta bloccando! Un nemico KO! Possiamo dare un'occhiata qui? È un'attività! Mi hanno individuata! Mi stanno sparando! Sto ricaricando! Sono un graffio! Un secondo! Aiuto! Mi stanno sparando! Mi stanno sparando! Mi stanno sparando! Mi stanno sparando!